Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo aggiornamento dell'800k Sono passati oramai quasi due mesi dall'ultimo di aggiornamento perciò direi che è arrivato il momento di aggiornarvi in quanto all'ultima operatività e anche alle nuove intrecazioni per quanto riguarda il portafoglio Sono stati due mesi piuttosto volatili soprattutto per quanto riguarda le altcoin tant'è che appunto vedrete alcune operazioni che fanno riferimento ad un ridimensionamento del rischio ma adesso ci arriviamo Detto questo ragazzi, prima di iniziare io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale Stivando la campanellina bla bla bla, quello che sapete insomma Se avete piacere iscrivervi e lasciare un mi piace mi farebbe, insomma vi ringrazio Ecco mi farebbe molto piacere anche a me, chiaramente E nulla, inoltre ragazzi considerate che dal mese di maggio sono riaperte le iscrizioni al ROTI 100K Perciò qualora foste interessate vi lascio il link giù in descrizione con un codice sconto del 10% Detto questo vi ringrazio in anticipo e partiamo Dunque, nello scorso video aggiornamento il nostro portafoglio valeva 283.336 euro Considerate che questo video lo fece uscire l'8 marzo 2024 Dunque, a distanza di due mesi, ecco che il nostro portafoglio vale ad oggi 254.088 euro Considerate appunto la volatilità in riferimento prevalentemente alle altcoin che c'è stata Perciò ecco abbiamo subito una perdita dall'ultimo video aggiornamento Di all'incirca 30.000 euro Tuttavia in questi ultimi due mesi abbiamo poi raggiunto anche un all time high del portafoglio Che adesso è di 323.201 euro Ogni volta che guardo queste cifre ragazzi dico Insomma, sono cifre importanti ed è bene essere consapevole di questo Per non perdere appunto la concezione di quello che si ha in un certo senso Anche se chiaramente vi ricordo che questo è un portafoglio simulazione Che non è il mio portafoglio reale, quant'altro, eccetera, eccetera Dunque, considerando l'altemai e il valore attuale Abbiamo subito un drawdown del meno 21.36% E questo dato ragazzi adesso lo accantoniamo un attimo Ma ci ritorneremo poi verso la fine del video Dunque, wallet d'investimento, wallet speculativo Come sapete appunto, wallet d'investimento segue altre logiche Quindi logiche del tutto differenti rispetto Chiaramente, scusate Alle logiche che segue il portafoglio speculativo Che comprende soltanto il 5% del portafoglio totale Dunque, core 30% Per core ragazzi io faccio riferimento prevalentemente a bitcoin Ad ethereum e tecnicamente rientrerebbe in questa categoria Anche USDT, quindi appunto liquidità Sono quegli asset ad alta capitalizzazione che generalmente vanno a smorzare la volatilità del portafoglio In questo caso abbiamo un 18% su bitcoin e un 12% su ethereum e un 7% in liquidità Che fa riferimento appunto alle operazioni di take profit Che abbiamo eseguito negli ultimi appunto due mesi E che in realtà fanno riferimento prevalentemente ad un ridimensionamento appunto del rischio Con il fine di ridurre la volatilità sul portafoglio Proprio diciamo in prossimità di una possibile fase di scarico degli eccessi Ripeto, che abbiamo avuto in questi ultimi mesi Poi effettivamente così è stato Dunque, 30% attuale Il target è quindi il 15% Quindi appunto queste cifre che vedete tra parentesi sono il target del portafoglio Dunque in questo caso ragazzi Considerate che questo 15% fa riferimento unicamente ethereum Ciò significa che in un dato momento non avremo più un'allocazione, un'esposizione su bitcoin Però questo soltanto in una fase molto specifica del mercato UST quindi appunto 7% Arriviamo al DEPIN, la Decentralized Physical Infrastructure Network Che è appunto questa nuova categoria in un certo senso in realtà esiste dall'alba dei tempi Soltanto che appunto gli hanno dato questo acronimo per definirla Quindi 16.5% target 15% Comprende render, ilium, cash e iox E come vedete per l'appunto Sul render e iox Ci sono state delle operazioni di take profit Questo perché? Perché il peso specifico di questi asset In riferimento appunto alle alte performance Che hanno ottenuto soprattutto per quanto riguarda iox In questi ultimi due mesi Essendo che la categoria legata alle AI Perché poi sono strettamente correlate anche a quella categoria Hanno avuto delle performance molto importanti Sempre anche diciamo Per via della questione relativa a invidia Delle ottime diciamo performance Questi ultimi anche quelle coin legate alle AI Sono praticamente esplose Dunque quello che ho fatto E' aver eseguito delle operazioni di bilanciamento Con il fine appunto di ridurre anche il peso specifico Per diciamo per asset AI 10.3% target 20% Quindi qui va aumentata Tant'è che appunto c'è una nuova integrazione In realtà tecnicamente 2 Ovvero anche Agix nello scorso video aggiornamento non c'era Ma adesso vi spiego anche il perché l'ho voluto integrare E la nuova nuova integrazione in realtà è BitSensor TAO In questo caso abbiamo un 1.9% Ma sto appunto seguendo degli ingressi scalibili In questo caso specifico Già degli ordini piazzati per quanto riguarda questo asset Quindi in questo caso abbiamo Oltre a BitSensor Fetch e Agix Che tecnicamente appunto Diverranno un unico token Ovvero ASI Per via appunto del merge Che avverrà tra qualche settimana Allora perché è stato aggiunto TAO innanzitutto? Tecnicamente ragazzi era un'attesa di un altro protocollo Che è IO.net Soltanto che purtroppo questo è il CEO E' insomma una persona a quanto pare poco raccomandabile Perciò nonostante le aspettative del protocollo erano veramente importanti Purtroppo la figura di riferimento non è questo Questo gran che è Ma oramai ragazzi io sono abituato a tutto nel settore cripto Perciò non mi meraviglio più di niente Dunque Per questa motivazione qua Ho lasciato da parte Appunto messo da parte IO.net Tra l'altro non è ancora uscita perché non ha avuto dei problemi Insomma non ha importanza Però qualora vi potesse interessare Magari andate via un attimo ad informare O magari ci facciamo un video Di riferimento Anche se non credo possa essere molto interessante Però ecco Abbiamo appunto considerato TAO Piuttosto che quel protocollo E in realtà dovremmo aggiungerne un altro Perché appunto Agix e FET diverranno soltanto un protocollo E quindi vorrei avere un'esposizione di tre protocolli Per quanto riguarda questa categoria Allora perché ho aggiunto Agix? Tecnicamente Semplicemente per una questione di arbitraggio Ovvero Il cambio è stato E' fisso Quindi è stato già definito Ed è appunto quello che vedete Questo è il cambio Quindi FET Un FET equivale a un ASI Un Agix equivale a 0.43 33.50 Asi E usia Stesso discorso Diferisce leggermente Quindi questo che significa? Significa appunto Che possiamo eseguire Delle operazioni di arbitraggio Su quelli che sono Gli asset Che hanno un rapporto di cambio migliore E in questo caso specifico Ragazzi Agix ha un cambio migliore Tra l'altro Vi faccio vedere anche questo Inoltre Anziché fare i calcoli Ragazzi Giù in descrizione Vi lascio un tool Direttamente Per andare a Diciamo a Considerare L'asset Tra i tre Che ha il cambio Più favorevole Quindi in questo caso Vedete che Il cambio fissato Sta a 0.43 Quindi questa linea nera E ad oggi Il cambio attuale È questo Quindi abbiamo Praticamente un gap Indicativamente Del 4.5% Ciò significa Che ad oggi Avere Agix Rispetto a FET Mi porta ad avere Un quantitativo Di token Superiore Del 4.50% Che non è affatto poco Quindi ecco Eseguito questa operazione Di arbitraggio Con la prima parte Appunto di FET Poi andrò ad eseguire Anche la seconda operazione E andrò a liquidare Interamente FET A favore di Agix Tra l'altro Come vedete Diciamo generalmente Agix Tiene di più il prezzo E performa anche meglio Proprio per questo motivo Perché le persone Vanno ovviamente Ad acquistare più Agix Rispetto a FET O anche lo stesso Sian Seppur vedete Appunto anche Sian In realtà Tende ad essere Un po' più forte Ritorniamo appunto Quindi al portafoglio Scusate Allora Rota 100k Bene Asset allocation Eccoci qui Quindi Gaming invece 6.4 In questo caso Non ci sono state Particolari operazioni Mutable X Beam come infrastructure E poi pixel 6.4% Target 10% DeFi 2.3% 2.5% Come target Quindi va benissimo Layer 14.7% 15% Come target Abbiamo Internet computer Sul quale appunto Ho eseguito Un'operazione di Diciamo Ribilanciamento Ho ridotto un po' L'esposizione Optimism Mantle E Alt layer E in realtà C'era anche Arbitrium Che ho liquidato Interamente Perché erano Troppi protocolli Appunto Diciamo In quanto a questa categoria Ovvero Highlier Tra l'altro Preferito avere Personalmente Optimism Piccola parentesi Ragazzi Per quanto riguarda Mantle Qualora possedeste Appunto Questo asset E siete anche Iscritti Sull'exchange Bybit Qualora non fosse Iscritti Ragazzi Vi lascio Il link Giù In descrizione Ecco Avreste la possibilità Di ottenere Dei rendimenti Banalmente Partecipando Ai vari Launchpad E launchpool Sull'exchange Mi basterà Andare qui In alto a destra Su More Poi in basso A sinistra Cliccare su Launchpad Ecco In questo caso Avreste la possibilità Di poter partecipare Al launchpad Di LFT Semplicemente Possedendo Mantle Sull'exchange O anche in questo caso Come vedete Anche Usdt Vi basterà Semplicemente Avere il sull'exchange Per partecipare Al launchpad E ottenere appunto Dei rendimenti In LFT Detto questo ragazzi Ritorniamo al video Real world asset 9% 15% Come target Quindi va aumentata Anche qui Sono a ricerca Di un nuovo protocollo Ne sto valutando alcuni E non arrivo ancora A definirvi quale Comunque abbiamo Centrifung E Ondo Che ha avuto Diciamo Delle performance Tra virgolette Contro bitcoin Ottima Contro altre altcoin Molto molto bene Nel senso che ha retto Il prezzo Davvero molto bene Infatti ha avuto Una volatilità Molto bassa Quindi Ondo 7.3% Ordinalz 2.4% Una nuova integrazione Che Merlin c'è Come layer 2 Appunto In riferimento a bitcoin E poi all'ex lab Che già c'era Quindi questo Per quanto riguarda Il portafoglio Small cap Invece ragazzi Banalmente vi condivisi Che abbiamo C'è GPT Maple Una nuova integrazione Ma già di Molti mesi fa In realtà E poi vi condividerò Anche gli altri protocolli Che in questo caso Sono molto speculativi Chiaramente Dunque Ritorando al dato Questo qui Meno 21.36% Considerando che Le alt di media Hanno perso Meno 40 Meno 50% Alcune Ecco Considerando che Il portafoglio Al 70% Distribuito Sugli altcoin Subire soltanto Un meno 21% Ecco Diciamo che Mi porta ad essere Piuttosto soddisfatto In un certo senso Di come il portafoglio Ha retto questa fase Di volatilità Questo è dovuto Prevalentemente A due fattori Il primo Chiaramente Che abbiamo Ridimensionato il rischio E ridotto la volatilità Prendendo profitto E avendo appunto Quindi liquidità All'interno del portafoglio Chiaramente Bitcoin ed Ether Hanno perso Meno E quindi Chiaramente Questo è andato Un po' In contrasto A smorzare La volatilità Degli altri protocolli Ma soprattutto Considerate che Comunque Gli altri protocolli Altcoin Tenere riferimento Prevalentemente Al depin Le AI E diciamo Le RWA Che sono di per sé Quegli asset O comunque Quelle categorie Che hanno perso meno Perché hanno perso meno Perché chiaramente Erano in forte trend Erano in tendenza E quindi Di conseguenza C'era molto più interesse E anche Ad acquistare Potenzialmente Le dip Il che ha portato Ad una volatilità Ridotta Scusate Rispetto invece Ad altri protocolli Ad esempio Prendiamo Come riferimento Agix Dovremmo essere intorno A un meno 28% Un meno 30% Stesso discorso Per quanto riguarda FET E comunque Le coin legate Alle AI Senza andare a considerare Chiaramente quelle più piccole O anche lo stesso Ondo Di cui parlavamo prima E quando Se considerassimo Senza la shadow Siamo a un meno 16% Indicativamente Se dovessimo considerare La shadow Invece questa qua Vabbè Dovremmo essere Un meno 20% Non l'ho presa Scusate Perché c'è questa Calamita Ok Quindi siamo intorno A un meno 20% Perciò ha retto Particolarmente bene Considerate che Bitcoin è intorno A un meno 14% Ai valori attuali Mentre Ethereum Siamo intorno A un meno Penso 20% 13% Per quanto riguarda Bitcoin Mentre Ethereum Che ha perso Leggermente di più Siamo intorno A un meno 25% Quindi diciamo Che abbiamo anche In realtà Perso meno Rispetto alla seconda Altcoin Per capitalizzazione Di mercato O meglio Scusate La prima Seconda Diciamo Secondo asset Per capitalizzazione Prima Altcoin Per capitalizzazione Quindi direi Che mi reputo Particolarmente Soddisfatto Di come abbiamo Diciamo Gestito Un po' E questa fase E di come Arretto Banalmente Il portafoglio Detto questo Ragazzi Questo voleva essere Appunto Un aggiornamento Generale Per quanto riguarda L'asset allocation Fatemi pensare Scusate Fatemi sapere Cosa ne pensate E Se avete appunto Qualche suggerimento Qualche idea Da condividere Insomma Questo mese Vorrei riprendere Un po' Più Con più costanza Ecco Nel pubblicare video Soprattutto Tenendo in considerazione Che questi ultimi Due mesi Non ho pubblicato Neanche un video E Questo mi dispiace Chiaramente Perciò ragazzi Se avete qualche idea Condividetela Così appunto Le prendo spunto E magari appunto Ci facciamo Un video Detto questo ragazzi Io vi ringrazio Ancora per la visione E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Buona continuazione Di giornata